Salve a tutti, benvenuti finalmente dopo miliardi di anni Siamo qui in compagnia di 19 Mujirawa75, saluta Ciao a tutti Io sono Yak Salve, salve E il mitico Zetai Che oggi farà lui il video praticamente Oggi sarà lui quello che spiegherà tutto Perché come avrete letto dal titolo Parliamo di Arte mineraria Arte mineraria, esatto Allora, prima di tutto vediamo un po' quanto ci abbiamo Io ce l'ho a 18 Io ce l'ho a 2 18 E il nostro Ace ce l'ha a? 4 Ah ma è che Ace è per meno di tutti qua? Pure il cavallo faccio schifo, non è possibile Lo compri da Beck Go il piccone Apri il negozio e vedi che è piccone Piccone Ovviamente più zero perché Devi farlo rivelare tutto 80kk 80k scusate 80kk ha più i soldi 80k Sì 80k e poi Posso picconare qui, posso picconare lì Quindi Però penso che la zona Di vita al picconaggio è Il tempio se un grande No, vale se un grande Il tempio cazzo Come si chiama? Tempio Hawaha Tempio Hawaha salamara Allora questa è la stanza dove si piccone Ah questa è la stanza dove si piccone Ok quindi praticamente è la prima Cioè è ben entrati Esatto Qui c'è, troviamo già il primo giacimento Che è Quello più costoso Ah la crema di cielo, ottimo La crema di cielo si vende Più o meno dai 3 ai 4kk e mezzo raffinato Ok quindi vai spiega un po' come funziona un po' tutto Cioè adesso noi stiamo piccolando Sì Allora basta avere il piccone ovviamente equipaggiato Poi si clicca sul giacimento Lui picconerà per qualche secondo E dopo verrà fuori L'estrazione fallita Oppure l'estrazione è avvenuta con successo Ah ok Se avviene con successo estrae dei minerali Sotto al nostro personaggio Che possono variare di quantità Da 1 a Non lo so Al massimo che ho droppato Da 90 e qualcosa Quindi comunque Un range parecchio vario Una volta presi 100 minerali di un tipo Si può andare dal Dal forno di Gilda Nella Nella consea lì Come si chiama Non mi ricordo il nome Contea Songpa Vabbè in contea si può dire anche In contea Ok sì In contea Si va dal Dal forno del tipo di materiale Di minerale estratto Quindi lacrime di cielo in questo caso Si portano 100 minerali di lacrime di cielo Più una pietra namba Da più zero a più tre E lui Con il 60% di possibilità La trasformerà in un Raffinato E niente Quindi picconiamo Ma Sponesci dopo un po' Su giocimento No? Si Ha una durata E Sinceramente Non ho ancora ben capito Se va in base a Quando uno Quando Quando Sponesci 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 No penso sia tempo Non è fino a esaurimento scorte Secondo me a tempo Si è probabile Perché sto continuando a piccolare io Perché? E poi cosa facciamo? Aspettiamo che Ci fa un altro giocimento Cambiamo CH Si cambia CH Allora Un piccolo pro tip Da fare In questo posto È Zoomare indietro La mappa in alto a destra Si E Facendo così Si vede bene tutta la zona E i punti verdi Dei minerali Rimarranno comunque evidenziati Ah ok Comodo Quindi si può Si può ricoprire tutta la zona Senza dover cirare Quindi tu Entri nel CH Metti indietro la mappa Vedi se c'è un minerale Cambi CH Ah si che sono tutti quanti qua intorno Si Ecco vedi tipo Questo Ser Simpatico A due PG Ah si si Eh si 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 sta Vabbè diciamo che non è come E non è a livello di Dei core Cioè non è a livello dell'alchimia No esatto Però per chi non ha un equip Si fa quei Buoni iniziali Di cui ha bisogno appunto Per farsi un equip Minimo E' un buon metodo Eh si Soprattutto perché Non è faticoso Cioè alla fine Ti metti due schermate La finestra E clicchi e premio Z Si Tra l'altro Infatti ma tra l'altro Ti puoi anche Ti puoi guardare un film O qualsiasi cosa Esatto Ti ogni tanto clicchi Si Anche perché comunque Cioè Se non hai nulla da fare Poi è noioso Perché Sei qui a guardare uno che piccola Eccolo è vero Va bene ok Vogliamo provare quindi Andare a raffinare Qualcosa Ah ecco Allora Produci lacrima di cielo Con 100 miner Allora provare Sì Ah con te a sua occupa Arrivo arrivo Questa Congratulazione Il raffinamento è venuto Con successo Rai lacrima di cielo Perfetto Perfetto Ok ci sono ci sono ci sono Eccolo Quindi ora abbiamo ottenuto Questo Ah quindi da questo qui Devo andare Abbiamo ottenuto questo Quindi ci clicco sopra Lacrima di cielo Pioggia cristallizzata Ok Quindi abbiamo fatto 2kk hai detto 3kk 3,5 3,5 Incredibile Più quello che ho speso Per andata e ritorno Ah ma può anche fallire Perché è il 60% Provo Il raffinamento Non ha avuto successo Ok Il mio è andato Per fortuna Nel video Quindi Spero che questo video Vi sia stato utile Ehm Non lo so Vi auguro di fare Tanti one E Mi raccomando Non vendeteli a meno Perché poi Uccidete il mercato Ecco giusto Bravo bravo Perfetto Quindi da Ace E compagnia è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 ciao